Mio nonno, il colonnello Francesco Grasso, nel settembre del 1943, organizzò e comandò la resistenza del presidio militare di Barletta contro l'aggressione della Wehrmacht, che aveva l'obiettivo di disarmare i soldati lì presenti, occupare la città e trasformarla in un caposaldo tedesco. Nelle stesse ore, quasi ovunque, l'esercito italiano entrava in confusione e si sbandava a causa della mancanza di ordini e di disposizioni chiare su come comportarsi nei confronti dell'ex alleato tedesco. Alle ore 2 dell'11 settembre arrivò al comando del presidio il fonogramma con il tardivo ordine di considerare le truppe tedesche come nemiche. Lo stesso giorno, il gruppo combattente Kurz attaccò Barletta, ma i militari italiani, nonostante le poche armi a disposizione, riuscirono a respingerlo. Nella notte tra l'11 e il 12 settembre, il colonnello Grasso, consapevole che i tedeschi sarebbero ritornati, chiese al comando del nono corpo d'armata di Bari altre armi e rinforzi senza dei quali non sarebbe stata possibile alcuna ulteriore difesa. Nulla però venne inviato a Barletta, né armi né munizioni né uomini, ma solo la richiesta di un dettagliato rapporto su quanto avvenuto. All'alba del 12 settembre, Barletta venne bombardata dal cielo e attaccata nuovamente. In aiuto dei soldati tedeschi, già respinti il giorno precedente, era arrivato il maggiore Walter Geriche con 1.500 paracadutisti. I soldati della Wehrmacht, superate le difese poste a presidio di Barletta, entrarono in città sparando contro abitazioni, contro monumenti e uccidendo civili inermi presenti nelle strade. L'occupazione di Barletta ebbe inizio con l'eccidio di dieci vigili urbani e due netturbini, forse la prima rappresaglia nazista in Italia. Il colonnello Grasso, per evitare ulteriori vittime e vista l'impossibilità di opporre una valida difesa, ordinò la resa. Non abbandonò i suoi soldati e restò lì al suo posto. Catturato dai tedeschi, venne malmenato, minacciato di morte e deportato nei lager nazisti di Ammerstein in Polonia, poi in quello di Cestocova, sempre in Polonia, e poi ancora in quello di Norimberga, in Germania. Non accettò mai di collaborare con i nazisti e con la Repubblica Fascista di Salò. Rientrò a Barletta solo il 3 luglio del 1945, dopo 22 mesi dalla sua cattura. Alla città di Barletta, per gli eventi del settembre del 1943, sono state conferite due medaglie d'oro, una al merito civile a maggio del 1998 e una al valor militare a luglio del 2003.